Ciao a tutti amici sono qui con un nuovo update di Bluffle Title 15806 questo Bluffle Title infinito che si aggiorna sempre, sempre in aggiornamento cosa si sono inventati quelli dell'outerspace? andate a scaricare gratuitamente questo update, ovviamente se avete una licenza guardate cosa possiamo fare ora, clicco il pulsante per avviare questa animazione che potete scaricare anche questa dalla community, è gratuita e voilà, entra questa scritta con delle ruote e fin qua nulla di strano perché siamo abituati a Bluffle Title che faccia queste cose però qui c'è una cosa molto particolare innanzitutto queste ruote sono oggetti 3D, quindi un modello 3D e se andiamo a vedere, semplicemente queste ruote sono spuse all'interno di un contenitore dove c'è anche questa scritta cosa succede? queste ruote si possono muovere automaticamente se io vado a prendere il contenitore infatti e lo sposto vedete che le ruote si muovono da sole, io non sto facendo assolutamente nulla ma com'è possibile questa magia? quindi possiamo legare qualsiasi cosa, in questo caso è una scritta ma se mettete una forma o un altro oggetto all'interno del contenitore si muoverà sempre con queste ruote le ruote non serve che siano 4 potete partire da una a ruote infinite tant'è che se io prendo la singola ruota e la sposto andiamo all'interno su una sottoruota vedete che questa continua a ruotare e se io la posiziono in un punto diverso e ora vado a prendere il contenitore vedete che lei mantiene la sua proprietà di ruotare così anche se io la dovesse spostare qua in alto per esempio e andassi a muovere il contenitore vedete che al cambiamento della posizione la ruota gira e vi dirò ancora di più non serve necessariamente che sia una ruota ma qualsiasi oggetto che presenta una caratteristica che adesso vado a presentarvi quindi avete visto che aggiornamento abbiamo ma vi faccio vedere un'altra animazione incredibile guardate questa seconda versione infatti abbiamo sei ruote e quando parto questo aggeggio strano si muove lungo il percorso seguendo il percorso e vedete addirittura le ruote si modellano e girano lungo il percorso facendo un'animazione incredibile che dovremo ottenere con tantissimo tempo di programmazione in altri programmi e qua è automatica guardate come sale e è con la proprietà del roller coaster quindi le ruote stanno semplicemente seguendo un percorso che gli diamo e fa tutto da solo e com'è possibile adesso ve lo spiego quando si prende l'oggetto soprattutto si crea l'oggetto allora qua avremo a disposizione questa ruota da poter utilizzare vedete se andate nella community io non lo posso distribuire ma lo scaricate gratuitamente avrete queste due animazioni che vi ho appena fatto vedere e qui all'interno del modello avremo questa ruota con tanto di materiale quindi la ruota sarà mappata così con questi colori che potete vedere qui invece se volete cimentarvi voi in qualcosa di divertente praticamente potete usare qualsiasi programma 3D io andrò a usare Blender e vi faccio vedere una cosa simpatica ho fatto semplicemente un cubo un cubo perché lo faremo ruotare ma come? qual è la magia che fa dire a Bluff Title che questa cosa deve ruotare? semplicemente andiamo a cliccare sulla proprietà dell'oggetto due volte e all'interno del nome che ad esempio questo oggetto era cube vado a mettere questo testo parentesi quadra aperta Bluffle Title wheel cioè ruota parentesi quadra chiusa e vado a esportare il mio oggetto quindi adesso andrò a esportare l'oggetto come object perché questa cosa funziona solo con i nuovi object quindi ad esempio salvo come cubo cosa succede adesso? quando vado a prendere questo livello andiamo sul desktop ecco qua il mio cubo ora questo cubo viene riconosciuto come fosse una ruota e vedete così non succede niente in questa posizione perché bisogna rispettare una certa direzione ma ad esempio questo se lo muovo in profondità ruoterà da solo vedete che ruota quindi ad esempio come faccio a far muovere il mio cubo in questa direzione e vado semplicemente a ruotarlo su quest'asse di 90 gradi e ora avrò il contrario cioè qui non ruoterà ma così ruoterà e anche questo cubo vedete ruota singolarmente ma se io vado a duplicare questo livello e lo inserisco in un contenitore quindi prendiamo un cubo e facciamo unisci a un livello contenitore ecco qua se muovo il livello contenitore vedete che il cubo ruota quindi io vado a prendere il livello del cubo lo duplico lo sposto vedete cambio posizione ne posso fare quanti voglio e ora se muovo il mio contenitore i miei cubi ruoteranno a questo punto vado a aprire un qualsiasi livello schizzo e andiamo a prendere il livello contenitore e lo uniamo al livello schizzo cosa succederà? succederà che adesso se usiamo la scrittura questi cubi come vedete ruoteranno seguendo il livello schizzo è quello che fanno le ruote seguendo adesso vabbè sono orientate così basterà ruotarlo ecco vedete che muovendo sotto il livello scrittura si muove anche il livello contenitore andava fatto il contrario ma il principio è questo ecco vedete adesso ho semplicemente aggiunto un altro torus esternamente ho aggiunto il nome e l'ho salvato come ruota grande sono andato a riprenderlo vedete che ho fatto giallo e un altro colore e ecco qua che quando lo sposto ruota se io dovessi togliere qua tutti i nomi non ruoterebbe più ma insomma con questa tecnica si possono fare tante belle cose guardate che bello ho tolto semplicemente la scritta dall'interno del contenitore e ho messo il mio pipistrello e ecco qua il pipistrello che se ne va in giro con le ruote ecco qua l'oggetto che si impenna e parte bene io vi ringrazio di avermi seguito andate a scaricare la nuova versione e scaricate anche le due animazioni dalla community ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti